Ciao a tutti ragazzi sono Marti Vigeli e oggi siamo nel secondo episodio di Alien Isolation Delle C2 Unica Supersite, buona visione Oh Eccolo Aspetta aspetta fammi vedere fammi vedere fammi vedere Sto andando dall'alta pa... No 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 Ok Oh no Cacchio cacchio, cavolo Ok Ok vai vai Ok Ok, ok siamo arrivati, siamo arrivati vero? Ok sì, siamo arrivati raga Ok Non c'è, non c'è Miscela? Sì Ok abbiamo 140 di lancia fiamme, adesso veloce Nooo, sblocca auto Auto E come si fa? Come si fa? E dove devo sbloccarlo? Questi? Ok 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 Vai Attiva autodistruzione Dinosaur Adesso dobbiamo soltanto vedere Ah no Dobbiamo anche farlo Ok Però Vai più lenta eh Vai più lenta Yeah Ok Ci siamo Ok ragazzi Questa è la fine Adesso dovrebbe distruggersi e quindi dobbiamo scamparla Fuggi dalla mare No dove c'era No Ok 5 minuti? 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti 5 minuti Ok raga Scusate se non sto parlando perché mi sto concentrando E poi abbiamo 190 va bene Però Non si vede niente E ho paura che mi spunti davanti Quindi Siamo già qua? Bene Oh no Eccolo Dove devo andare? Qua Eccolo Eccolo Ah no Se ne sta andando E qui Allora Allora Dobbiamo andare avanti Dobbiamo andare avanti A destra e c'è la scala E' la scala E' la scala Vai 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 Veloce Veloce Scappa via Veloce Vai 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 Ce l'abbiamo fatta Miracolo Rapporto La frontiera tra sei settimane Dovrebbe essere esplosa la nave Ok ragazzi Ok ragazzi Il DLC è finito Credo che è Che è finito Poco perché Credo che siamo Giunti alla fine Cioè è finito E quindi raga Praticamente Il prossimo sabato Vedremo Il gioco Proprio Con Amanda Ripley Vorrei fare Adesso Visto che il video E' un pochetto Corto Vorrei fare Modalità sopravvivenza Con Amanda E modalità sopravvivenza E' una cosa stupidissima Però non la continueremo Comunque Ehm Video corto Ma con una Con Un gioco in più Perfetto Primo sabato Piano intera Tempo limiti Trenta minuti Abbiamo 50 di lanciafiamme Beh almeno Ci stanno Scorte 50 50 100 Ok Raccogli Due Beige Dell'equipaggio Elimina I dati Del sistema Ok Vai Adesso raga Farò tipo Un walkthrough Perché questa cosa L'ho giocata E so cosa devo fare Farò tipo Un walkthrough Quindi Sto zitto Ok Ok Ok, beige I'll now do it No, 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 no Va bene ragazzi se questo video di Alien Isolation vi sia piaciuto Spaticiate, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete il video e ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi No